Covid in Abruzzo, 145 nuovi positivi, l'incidenza sale sopra soglia 50, 4 ricoveri in più negli ospedali ma nessuna vittima. Presentati i cammini religiosi d'Abruzzo, si punta la valorizzazione degli aremi, tanti nuovi sentieri e nuove esperienze per i turisti che visiteranno la regione. Traffico in tilta a Pescara, 4 corsie, 2 per gli autobus e non cambia il progetto per Viale Marconi, il sindaco Masci punta la sostenibilità, previsti nel piano anche nuovi parcheggi. Il Pescara lunedì sera a Cesena, Galano sarà di nuovo titolare in trasferta per cercare una vittoria indispensabile, il Teramo sfida la fermana domani alle 14.30 al Bonolis, quindi partita difficile. Ritrovate un altro appuntamento con l'informazione e le notizie dall'Abruzzo. Iniziamo dal report giornaliero dei casi Covid, sono 145 per una percentuale di contagiosità sopra l'1%, non si registrano vittime ma a preoccupare sono anche i nuovi ricoveri. Ci fa il punto nel servizio Alfredo Giovannozzi. La linea del contagio in Abruzzo si mantiene piatta e non è una bella notizia. Significa che i nuovi positivi sono sulla stessa linea di quelli di ieri, anzi a voler essere pignoli ne sono due in più. Sono infatti 145, ieri erano 143, i nuovi contagi in Abruzzo, frutto di 3.388 tamponi molecolari esaminati che danno una percentuale di contagiosità pari al 4,3%. Se si considerano anche i 7.973 test antigenici, allora la percentuale complessiva diminuisce ma resta testata sopra l'1% e per la precisione all'1,3%, leggermente più alta rispetto a ieri. Insomma, l'Abruzzo dal punto di vista dei contagi è in linea con il resto del paese e se i parametri sono quasi tutti da zona gialla, al momento resta la pressione sugli ospedali a tenere molte regioni ancora al riparo da questo rischio che comunque resta vivo. Dopo il boom di ieri nel Terramano, è l'Aquila la provincia con il maggior numero di contagi, 59, poi c'è la provincia di Teramo con 45, il Chietino con 28 e infine Pescara che è anch'essa in doppia cifra, contando 14 nuovi positivi. Anche oggi fortunatamente non si registrano decessi e così il numero di coloro che hanno perso la vita a causa del Covid resta fermo a quota 2.565. Si parlava prima della pressione sugli ospedali, sia nelle aree mediche che nelle terapie intensive. Su queste ultime la situazione resta identica a quella di ieri, dove i ricoveri sono ancora 7, mentre si registra un aumento con 4 pazienti in più nelle terapie non intensive, dove i ricoveri sono adesso 70. Aumenta in maniera consistente il numero di coloro che si trovano in isolamento domiciliare, con sorveglianza attiva da parte dell'Asla di competenza, visto che sono ben 135 in più rispetto a ieri, per un totale di 2.159. Purtroppo il dato di oggi dei guariti non aiuta molto, sono pochissimi, solo 6. Questo significa che il numero degli attualmente positivi, che sono calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei guariti e dei deceduti, sia di ben 139 unità in più rispetto a ieri, per un totale di 2.159 positivi in circolazione in Abruzzo. Ed è pronto il disegno di legge sul coordinamento dei cammini religiosi in Italia, con la regia anche dell'assessore regionale al turismo Daniele Damario, che ne ha parlato anche in un suo intervento in Senato. Giancarlo Falcone Assessore, quanto sarebbe importante una legge quadro sui cammini? Sicuramente è una legge importante. Tenete presente che noi stiamo per approdare in aula con un testo unico del turismo, dove anche il discorso dei cammini è ricompreso. Affronteremo presto in aula una riforma totale di tutto il sistema turistico, di tutte le leggi del turismo oggi esistenti, integrando in un testo unico, dove anche il discorso dei cammini è ricompreso. Nella sua audizione al Senato, qualche mese fa, lei ha parlato anche dell'aggiornamento dell'attrante storico dei cammini. È un atto importante. Ovviamente va fatto un aggiornamento di tutti i cammini, che sono tanti e vanno integrati tra di loro, quindi occorre un grande lavoro di ricognizione per mettere a sistema tutti i cammini che esistono oggi. L'Abruzzo è pronto? L'Abruzzo sta lavorando per essere pronta. Sicuramente c'è un grosso lavoro alle spalle fatto dall'assessorato. Riteniamo anche, alla luce dei nuovi numeri, anche in periodo Covid, che hanno fatto le aree interne, i percorsi, i cammini, i borghi, che sia un territorio pronto per affrontare questa nuova sfida. E dunque il turismo religioso come punto di riferimento per l'intera regione, il rappresentante della conferenza episcopale Abruzzo e Molise, il vescovo di Sulmona e Valva Michele Fusco, rilancia anche l'iniziativa per la valorizzazione degli eremi ingenti, il danno che hanno ricevuto dalla Chiesa anche a causa del Covid. Sentiamo l'intervista di Alfredo Giovannozzi. Eccellenza, in Abruzzo vi state organizzando per far conoscere posti che non sono quelli soliti del turismo religioso, ma ce ne sono tanti altri. La conferenza episcopale, in questo tempo, stiamo vivendo un percorso, un cammino, che ci porta a incontrare vari territori e varie bellezze della nostra regione, così da riscoprire che abbiamo tante località, forse nascoste ancora, che vogliamo far emergere e vogliamo dare l'opportunità a questi territori, anche delle aree interne, di poter valorizzare l'arte, la storia, le tradizioni, per poter fare delle proposte interessanti, così da generare anche economia, lavoro, percorsi, cammini. Ecco, tutto questo è nella nostra agenda. A proposito di economia e di lavoro, abbiamo vissuto momenti terribili, ricordiamo i santuari chiusi, messe a porte chiuse, il divieto di spostarsi. Quanto è costato alla Chiesa questo? Certamente tante realtà sono andate in crisi, tanti operatori sono andate in disoccupazione, ma non soltanto dei nostri, ma tutto l'indotto intorno ai santuari. Tutti gli albergatori, gli operatori, questi hanno vissuto una profonda crisi, a cui lo Stato ha cercato anche di far fronte, per quello che ha potuto. Se lei dovesse citare un posto da visitare non conosciuto dalla massa o conosciuto da pochissimi, quale consiglierebbe? Beh, certamente, io consiglierei di andare a visitare gli Eremi, gli Eremi di Celestino V e tutti gli Eremi che abbiamo disseminato sulle nostre montagne, che sono una ricchezza e un patrimonio bellissimo. Ed ora la cronaca, è rimasto chiuso per circa due ore, il tratto di carreggiata abruzzese della 14 in direzione nord, dopo il viadotto del Salinello, a causa di un maxitamponamento tra 5 auto. Il sinistro si è verificato ieri sera, poco dopo le 20, ed è avvenuto al termine di un tratto in curva. Hanno avuto la peggio il conducente di una Fiat Punto, che è rimasto gravemente ferito ed ora è ricoverato all'ospedale di Teramo, mentre le due ragazze che viaggiavano su una panda hanno riportato solo lievi traumi dopo essere state estratte dalle lamiere e trasferite al nosocomio di Santomero. Le cause dell'incidente sono al vaglio della Polizia Autostradale, sul posto per i soccorsi oltre al 118, anche i vigili del fuoco. E continuiamo a parlare in qualche modo di viabilità, nessun cambiamento al progetto per Viale Marconi, portato avanti dall'amministrazione comunale. Ben due delle quattro corsie saranno infatti dedicate agli autobus. Il servizio è di Sergio Cinquino, che ha sentito il primo cittadino Masci. Non cambierà il progetto di Viale Marconi a quattro corsie. Non ci saranno stravolgimenti nei lavori del comune di Pescara, che prevede, per agevolare il percorso degli autobus, per i quali sono previste corsie dedicate, di migliorare la mobilità cittadina con la riduzione del traffico privato a vantaggio di quello pubblico. Un male necessario, dice il sindaco Carlo Masci, il sacrificio dei parcheggi per garantire le quattro corsie. Un sacrificio compensato con nuove aree e parcheggi davanti al circolo tennis e nell'area dell'ex di Bartolomeo. Ne ci saranno modifiche, in attesa della conclusione dei lavori, sugli spazi parcheggi. Gente che protesta perché pensa che il cambiamento porti svantaggi a quella zona. Il cambiamento, noi siamo certi che porterà dei vantaggi innanzitutto alla città di Pescara, perché la mobilità pubblica ci permetterà di abbattere l'inquinamento che c'è quando su Pescara entrano 100.000 macchine al giorno. Se noi vogliamo ragionare diminuendo questo transito di 100.000 macchine al giorno lo possiamo fare soltanto creando le condizioni affinché il mezzo pubblico sia competitivo rispetto al mezzo privato. Perché da Montesilvano a Pescara e allo stadio con il mezzo pubblico oggi occorrono almeno 40-50 minuti. E noi pensiamo che con corsie dedicate, compreso l'ex tracciato ferroviario, si arriverà a 20 minuti. Così la gente prenderà di più l'autobus rispetto al fatto che avere la macchina, trovare il parcheggio, perdere tempo, arrabbiarsi come succede sulla strada. Ecco, una mobilità diversa, più tranquilla che si realizzerà in questa città perché queste sono le linee direttive che ci detta l'Europa, ci detta il governo e perché è giusto così, perché la città deve vivere meglio con meno smog, con meno macchine che intasano le vie e con più spazi a disposizione dei cittadini. Il problema al traffico di Pescara è dunque sempre più avvertito dai cittadini. La città è chiusa in una morsa, anche se per l'assessore Luigi Albore Mascia è un segnale positivo che vuole significare anche il ritorno alla vita della città. Sentiamo. Con ormai alle spalle i giorni della città deserta causa restrizioni Covid, Pescara si ritrova a combattere i problemi di traffico e di inquinamento di sempre con l'ultima settimana che ha fatto registrare punte di traffico dei tempi peggiori con via Nicola Fabrizi, corso Vittorio Emanuele e la rivera intasate, come non succedeva da quasi due anni. L'assessore al traffico Luigi Albore Mascia tranquillizza. Assessore alla mobilità Luigi Albore Mascia, una città, Pescara, dove si comincia in questi giorni probabilmente anche di ripresa a rivedere parecchio traffico. Eh sì, Pescara si è sempre un po' caratterizzata per questo, ma io credo che sia il segno anche della vivacità che Pescara ha sempre avuto dal punto di vista economico, dal punto di vista commerciale, dal punto di vista anche della capacità che Pescara ha di attrarre. È noto che ogni giorno entrano su Pescara quasi centomila veicoli da nord, da sud e da ovest. Questo dà il segno del carattere baricentrico della nostra città e inevitabilmente possono crearsi nelle ore di punta anche dei disagi o delle difficoltà momentane. Però cerchiamo sempre di fare il nostro meglio anche e soprattutto per cambiare la cultura dello spostamento non soltanto dei cittadini pescaresi, ma anche di tutti coloro che sono ben accolti a Pescara, sopraggiungono a Pescara e contribuiscono alla vivacità di questa Pescara. La di ieri è stata una giornata un po' più caotica rispetto alle altre. C'era un motivo particolare? Sì, c'era un motivo particolare perché in questo fine settimana, quindi proprio da ieri, è iniziata anche un evento in Corso Vittorio Emanuele, un evento molto bello sul food, una sfida importante quando poi si interrompe il traffico su un'arteria come quella, anche se io sono stato il promotore della pedonalizzazione di Corso Vittorio Emanuele, inevitabilmente diciamo che quello che crea più difficoltà è la necessità di adattarsi alla nuova situazione, quindi alla deviazione del traffico e al fatto che l'automobilista può trovarsi magari non sempre preparato di fronte alle modifiche, alla viabilità che sono state introdotte. Un lavoro impegnativo quello svolto dalla Guardia di Finanza che nonostante le tante difficoltà del periodo cerca di proseguire con attenzione, nello specifico il territorio terramano, nonostante sia una provincia abbastanza tranquilla, ha uno sguardo sempre vigile per scovare eventuali criminali. Allora abbiamo sentito il comandante con la nostra Chiara Bonatti. Diverse le indagini che in questo anno hanno contraddistinto il lavoro della Guardia di Finanza a Teramo, un ruolo importante che nonostante le difficoltà riesce a seguire le nuove fenomenologie finanziarie, ancora più nascoste di altre, e che danno seguito in determinate situazioni a criminalità organizzata. La Guardia di Finanza è diventata una polizia trasversale, una polizia che ci invidia tutta Europa per la sua capacità di poter aggredire tutti i fenomeni criminali più illeciti e più perniciosi, per cui le difficoltà sono tante, anche perché la criminalità, soprattutto economica, che è una versione della criminalità organizzata, evoluta, è quella più addestrata, quella che si avvale di colletti bianchi, quella che si avvale di professionisti preparati, per cui noi dobbiamo essere a loro livello e anzi un passo avanti a loro, per cui le difficoltà sono tantissime, quello dell'aggiornamento professionale, quello di seguire i flussi finanziari, quello di riuscire a capire le varie gestioni societarie anche a livello non solo locale e nazionale, ma anche estero, per cercare di individuare quali sono queste fenomenologie illecite e soprattutto chi sono i responsabili. Nella provincia terramana la situazione è apparentemente più serena rispetto alle altre, ma l'attenzione è sempre vigile a causa dei fenomeni che si possono insediare in questi territori. A livello territoriale rispetto alle altre province dell'Italia la situazione terramana è, devo dire, più serena. Ovviamente lo sguardo resta ancora vigile perché proprio quei territori più tranquilli e sereni sono meta della criminalità organizzata di reimpiego dei loro proventi illiciti. Quindi possiamo dire, sì, una situazione apparentemente tranquilla, ma che, ripeto, la cui attenzione non viene meno da parte nostra. Ed ora ci spostiamo a Roseto. Subito la ripresa dei lavori del Pontile, altrimenti il sindaco si dice pronto alla revoca dell'incarico alla ditta che dovrebbe effettuare i lavori e che invece sono fermi da tempo. Sentiamo. Altolà del sindaco di Roseto, Mario Nunez, alla ditta che sta realizzando i lavori di ristrutturazione messa in sicurezza del Pontile. Le opere sono ferme ormai da mesi e il primo cittadino ha chiesto il perché dello stop nonostante l'impresa sia stata regolarmente pagata in base allo stato di avanzamento. Una situazione che non è piaciuta al sindaco che ha chiesto il rispetto dei tempi per la riconsegna dei lavori programmata già per la prossima primavera. Nunez è stato categorico. Al di là di quelle che potrebbero essere nei prossimi giorni le condizioni meteo, la ditta dovrà subito riprendere le operazioni. Altrimenti il primo cittadino avvierà la procedura di revoca dell'incarico per inadempienze della ditta stessa, affidando gli interventi all'impresa che si è piazzata al secondo posto. Un chiaro messaggio che dovrebbe a questo punto sbloccare la situazione per la ristrutturazione del pontile. Opera realizzata agli inizi degli anni Ottante e mai sottoposta ad adeguati interventi di manutenzione, il Comune di Roseto aveva ottenuto quasi tre anni fa un finanziamento da un milione di euro grazie al Masterplan. Era l'unica strada perseguibile per riuscire ad ottenere fondi adeguati per il progetto di recupero della struttura che stava letteralmente cadendo a pezzi. Al momento la ditta appaltatrice avrebbe eseguito solo parte degli interventi ai pilastri di sostegno e manca ancora tutta la fase di superficie che prevede l'eliminazione delle paratie danneggiate, il rifacimento della passeggiata e di tutti quegli elementi per la sicurezza delle persone ai lati della struttura. Le misure governative di rilancio dell'edilizia spingono il comparto delle costruzioni a Tortoreto che fa registrare per le casse comunali un gettito Bucalossi di 570 mila euro, quasi il doppio rispetto alle previsioni. Ci spiega in questo servizio Alex De Palo. Il super bonus 110, la ripresa economica e gli altri incentivi governativi di sostegno rilancio al comparto dell'edilizia trainano lo sviluppo urbanistico di Tortoreto. Lo dimostra l'aumento della Bucalossi che si attesta a 570 mila euro, un balzo di valore quasi doppio rispetto al 2020 che segna lo stato di buona salute dell'economia delle costruzioni. Sicuramente al 110 che sta portando grandi investimenti a Tortoreto ma c'è questo sviluppo in campo edilizio che vede Tortoreto un po' come dire una regina in questo settore, nel settore immobiliare. Quindi c'è molta richiesta, gli imprenditori sono molto attivi soprattutto a Tortoreto perché, ripeto, sia da locali ma soprattutto da turisti c'è una forte richiesta di appartamenti proprio sul nostro territorio. Quindi anche questo è un dettaglio che fa ben sperare per il futuro di Tortoreto soprattutto perché è molto ricercata e quindi riteniamo anche di conseguenza apprezzata da tante persone. Il maggior gettito derivante dalle imposte, tasse e tariffe registrate nell'esercizio di bilancio in corso non sono a libera disponibilità. Buona parte, infatti, avrà destinazione vincolata. Per quanto riguarda queste entrate alcune sono vincolate proprio ad esempio per quanto riguarda la tassa di soggiorno sappiamo che in bilancio abbiamo delle voci specifiche che saranno reinvestite in ambito turistico quindi sarà poi l'assessore insieme al comitato turistico a decidere dove investire queste maggiori risorse. Anche per quanto riguarda i parcheggi c'è una parte che sarà vincolata e destinata diciamo sempre per il servizio attinente e per quanto riguarda invece le entrate da Bucalossi anche lì insomma ci sono alcune entrate vincolate ma anche una parte che può essere investita per quanto riguarda lavori pubblici e anche di manutenzione sul territorio di Tortoreto. Siamo arrivati allo sport il Pescara posticipa a lunedì sera il turno di campionato a Cesena contro i bianconeri locali Galano sarà di nuovo titolare in trasferta per cercare una vittoria indispensabile. Tra Galano e Auteri è scoppiata la pace lunedì sera nel posticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie C al Manuzzi di Cesena ci sarà il Robben delle Puglie a guidare l'attacco della formazione adriatica in un 4-3-3 rispolverato anche in virtù dell'impiego dal primo minuto dell'esterno offensivo che fino a solo a un mese fa sembrava fuori dal progetto. Poi le sconfitte impreviste con Reggiana e Modena hanno convinto più della chiacchierata riappacificatrice tra i due l'allenatore a cambiare rotta e l'attaccante a mettersi a disposizione del gruppo senza i mal di pancia e di testa del passato scelta che ha dato i primi frutti con l'Olvia gara vinta dal Pescara nella quale Galano è stato tra i migliori e che Auteri sembra assolutamente intenzionato a riproporre nella sfida con il Cesena partita nella quale al Pescara servirà qualità e servirà anche l'esperienza servirà non solo un Galano all'altezza del suo passato ma una squadra convinta perché oltre ad essere avversaria diretta nella lotta per la promozione in B i cesenati sono anche a 5 punti di vantaggio sul Pescara e inseguono come gli abruzzesi del resto la reggiana ormai lanciatissima per il Pescara se non è un'ultima spiaggia poco ci manca e l'unico risultato da considerarsi utile è la vittoria con Galano in campo il potenziale offensivo della squadra di Auteri aumenta non solo perché l'attaccante è tra i pochi insieme con Drudi autore del gol vittoria con l'Olbia ad essere imbattuto ma perché obiettivamente in C è in grado di fare la differenza tenerlo in panca non si può ed il resto con lui in campo sono arrivate tre vittorie e tre pareggi per il Pescara che stavolta però sarà costretto a fare il risultato pieno impresa non impossibile soprattutto se i compagni di reparto De Marchi e Ferrari continueranno il trend che gli ha visti i protagonisti e se Galano troverà il primo gol ora che la pace con Auteri è fatta come hanno confermato le dichiarazioni del tecnico c'è nulla con promesso lo ripeto ancora una volta adesso lui è tornato ad essere un giocatore più disponibile e quindi più disponibile verso l'obiettivo poi e poi poi lo conosciamo ed ora andiamo ad ascoltare un estratto della conferenza stampa di mister Guidi alla vigilia di Teramo Fermana è chiaro che dentro il mio stato d'animo se ti dovessi spiegare il mio stato d'animo è ancora uno stato d'animo molto arrabbiato molto deluso per per aver gettato al vento una partita di campionato e non tanto per la sconfitta ma per come per come è venuta fuori la partita con il Pescara ci ha detto che la squadra ha recepito il messaggio ora è chiaro che dobbiamo proseguire su quella strada che è stata tracciata e l'entusiasmo che ci ha ricreato dentro e soprattutto le certezze che ci ha ridato la partita contro il Pescara bisogna rimetterla in campo contro la Fermana che è una partita in chiave campionato estremamente importante Buongiorno mister allora io le volevo chiedere di parlare un po' dell'avversario la Fermana è una squadra che parte non con grandi ambizioni però è un avversario sgorbutico viene da tre risultati utili mi pare due vittorie e un pareggio insomma come affrontarlo? Io penso che la Fermana quest'anno ha fatto una politica diversa rispetto a quello che ha fatto nell'ultima stagione perché ha abbandonato l'idea di fare il minutaggio e ha deciso di fare una squadra molto esperta con giocatori estremamente importanti per fare un campionato molto più tranquillo per poter ambire anche alla zona playoff quindi è una squadra costruita per questo e quindi sappiamo che abbiamo di fronte una squadra forte è tutto per il TG Abruzzo grazie per essere stati con noi vi auguro una buona serata grazie per la visione